Rimane in stand-by la situazione dei lavoratori considerati in esubero per le attività di servizi in appalto per la Total, almeno fino ad un incontro che l'assessore regionale Lucano allo sviluppo economico Francesco Cupparo terrà con l'amministratore delegato della compagnia petrolifera francese. Questa è la decisione emersa dal tavolo della trasparenza riunitosi nelle scorse ore a Potenza. Oltre a Cupparo erano presenti una delegazione di sindaci dei comuni interessati dalla concessione di Temparossa, rappresentanti sindacali di CGL Cisleville, una delegazione della Total e delle aziende dell'Indotto. Durante l'incontro si è discusso della proposta dei sindacati di avviare a inizio 2025 un piano di formazione per ricollocare i lavoratori in nuove mansioni che rispondano alle esigenze del comparto oil e dell'Indotto, in cui è forte la difficoltà di reperire personale qualificato. Cupparo ha inoltre chiesto alla Total un report aggiornato sulle aziende attualmente impegnate e sui livelli occupazionali con una focus sull'accelerazione del programma di lavori al centro CED di Guardia Perticara. Noi nel protocollo avevamo previsto che qualora vi fossero la fine di alcune attività, vedi le costruzioni, ci doveva essere l'impegno prioritario a ricollocare questi lavoratori che lavorano in quel sito anche da 8-9 anni, hanno costruito il centro oli e ci pare assurdo che in una fase di espansione massima di quel centro oli in termini estrattivi si possa parlare di esuberi. Se Total nasce per dare un'identità al territorio oggi sta facendo completamente il contrario. Ecco perché siamo in regione, perché la politica deve prendere una posizione, la politica deve sapere che proprio in questo momento di massima estrazione per quanto riguarda il centro oli di Tempa Rossa si parla di unità in meno di lavoro. Giugno 2020 è stato lo Spartiacque, lì Total consegnò questo documento in cui erano annunciate 1.149 assunzioni. Noi conosciamo tutti i profili professionali dei possibili assunti dentro il centro oli di Tempa Rossa e oggi constatiamo una sola realtà, che loro sono in una fase espansiva. Estraggono 50.000 barili, hanno 640 lavoratori e tendono a tagliare altre occupazioni. Grazie. Grazie.